Buongiorno a tutti, è arrivato il momento delle prime pagine dei quotidiani, sempre dedicata alla foto, la pietà di Gaza, la foto di questo fotografo della Reuters, Mohamed Salem, che ha vinto il World Press del 2024 e poi Basilicata, ultima chiamata alle urne, la volata appunto ieri di Schlein e De Caro al candidato di PD e 5 Stelle Marese, oggi a Potenza anche Meloni, Salvini e Tajani che chiudono per il candidato Bardi. Allora ripartiamo da qui, facciamo il punto nel servizio sull'elezione appunto regionale in Basilicata il prossimo domenica e il prossimo weekend. Il voto per le regionali in Basilicata, tre i candidati alla presidenza, il governatore riuscente Vito Bardi di Forza Italia e sostenuto dal centrodestra più azione e Italia Viva. Piero Marese, candidato del centrosinistra Campolargo ed Eustatio Follia della lista Volta. Domani è prevista a Potenza la manifestazione dei leader del centrodestra a sostegno di Vito Bardi, mentre oggi era a Matera la segretaria del PD e l'Islein per Piero Marese e la segretaria DEM ha posto di nuovo il tema del Servizio Sanitario Nazionale. La destra sta tagliando le risorse alla sanità pubblica. Il triste primato di Bardi qui è aver visto l'aumento della mobilità di tanti lucani che stanno uscendo dalla regione per curarsi. Noi vogliamo invertire questa rotta. Schlein poi ha definito pessima e pericolosa la riforma dell'autonomia differenziata. Noi denunciamo dall'inizio questa pessima e pericolosa riforma dell'autonomia differenziata e non si capisce perché il presidente di questa regione Bardi non abbia detto una parola contro un disegno che vuole spaccare il paese.